Siamo a Rotondi dove si organizza un interessantissimo convegno con noi la dirigente farese che ci spiega perché di questo convegno e perché Rotondi? Allora, praticamente abbiamo organizzato questo convegno, un corso di formazione più che altro per i docenti dell'Istituto Carlo Del Balzo perché l'argomento era interessante, cioè l'inclusione e soprattutto la problematica per degli alunni affetti da ADHD, cioè per attività. Quindi purtroppo nei nostri istituti sono in aumento, pertanto ho ritenuto necessario un confronto, con un confronto, conoscenza anche, con il dottore Ghiaccio che è il neuropsichiatra dell'ASL di Cervinara e con il presidente della campagna associazione ADHD, proprio perché erano esperti in questo settore per cui potevano darci delle informazioni, delle conoscenze e noi potevamo confrontarci anche tenendo conto dei casi presenti nel nostro istituto. Casi che, come diceva lei, in continuo momento, ma oggi si sarà un seguito, si cercherà di organizzare mensilmento, col tempo, altri corsi? Beh, ovvio, non si smette mai di conoscere notizie, appunto cose nuove su questo argomento molto delicato. Cercheremo di organizzarlo, certamente.